Era in fuga da oltre un anno Francesco Strangio, pluripregiudicato, condannato a 14 anni per traffico internazionale di stupefacenti, personaggio di spicco dell'omonima Cosca di San Luca. I carabinieri di Reggio Calabria e di Cosenza lo hanno trovato all'interno di un piccolo appartamento all'ultimo piano di una palazzina nel centro di Rose, paese di 4.000 anime a una quindicina di chilometri da Cosenza. Un vero e proprio broker della droga, capace di far arrivare in Italia e in Europa dal Sud America fiumi di cocaina. Sono diverse le inchieste che provano come il ruolo di Francesco Strangio nell'attività di narcotraffico delle cosche della Locride fosse di primissimo piano. Era latitante da un anno, inserito nella lista dei criminali più pericolosi ancora in libertà. Le forze dell'ordine lo cercavano in tutto il territorio della provincia di Cosenza, da lì infatti non se n'era mai andato. Protetto da un muro di omertà e dal suo clan, era riuscito più volte a farla franca spostandosi di paese in paese per non dare punti di riferimento. Ieri notte però nulla è servito. A stanarlo nel suo ultimo covo di Rose anche i carabinieri dello squadrone cacciatori di Vibo Valencia. Lo Stato c'è e grazie alle forze dell'ordine che ogni giorno ci fanno essere orgogliosi di loro, questo è il primo commento del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Grazie a tutti.